Sentiamo ora il deputato della Carroccio, Emanuele Prataviera, che commenta l'audizione in Commissione Politiche Comunitarie del Ministro Moavero. Onorevole, che cosa ha detto il Ministro Moavero in Commissione? Il Ministro Moavero ha riportato quelle che sono state le raccomandazioni dell'Unione Europea all'Italia. Di fatto hanno sbandierato di averci promosso, in realtà non è proprio così, ci hanno rimandati a settembre. Hanno fatto un applauso a tutti i sacrifici degli italiani, dimenticandosi però che agli italiani verranno chiesti ulteriori sacrifici. Però l'Europa non è stata del tutto negativa, l'Europa è stata anche positiva. In particolare noi abbiamo sempre espresso la nostra contrarietà alla legge Fornero e l'Europa ha chiesto una riforma del lavoro. Peccato che quel governo, il governo Monti, che doveva ridare dignità all'Italia, che doveva fare in modo che l'Italia assumesse una posizione più europeista, di fatto sul lavoro ha perso più di un anno. Poi l'Europa ha chiesto di migliorarci a livello istituzionale, con i vari livelli istituzionali, quindi ben venga il federalismo io credo e oggi l'abbiamo fatto presente al Ministro Moavero. Ma cosa ancora più simpatica, diciamo così dal punto di vista politico, è che il governo ha chiesto di eliminare l'Imu, in realtà la congelerà solamente, mentre l'Europa ha chiesto che si vada in controtendenza abbassando il livello delle tasse sul lavoro e invece andando a gravare sugli beni immobili. Ecco, noi a questo siamo assolutamente contrari. Noi siamo invece favorevoli a uno slennimento dello Stato e solo così si possono recuperare quelle imposte senza andare ad aumentare le tasse ai cittadini che lavorano. Dobbiamo tagliare la spesa pubblica per andare poi a stimolare la spesa privata.